marito guarda che bello siamo a grecio a grecio a un liceo san francesco che parlava di animali senti a proposito di animali a proposito di animali io ho deciso ho capito riflettuto e ho deciso che posso fare qualcosa per la nostra comune felicità e senti un attimo a camorra tende torni da mamma parlando giusto no no non è questo io pensavo siccome a reggio ormai insomma le elezioni sono vicine 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 io ho pensato dato che supporto uno cane porci perché non ti ho porto pure tu e che sogno uno cane che sogno uno porco ma no non hai capito no dicevo si portano cane porci e tu che cosa fai incominci ti porti e incomincivo fai ai cosi incomincivo fai promesse promesse elettorale e comincio a dire le solite cose amondizia aluvamo i buchi stuppamo u lavoro uscanzamo no 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 non ti distrarre tu che cosa fai fai le promesse elettorale elettorale e poi che cosa fai una volta che in chiani ascoltami bene una volta che in chiani prendi e fai saluto a me queste persone che intanto stanno passando e una volta che in chiani incominci e dici che devo fare pavari nel senso ok nel senso viene uno e ti dice guarda c'è una buca che stava a stupare ma pavari e voi moto pulizzo a rua ma pavari e voi un lavoro comuni vuoi un lavoro comuni non parlare con mia che non hai cugna manco con mia ma no no ma tu seguimi nel disco ma io sono sempre destruttivo no tu ma seguire in tutto scorso ascoltami tu ti porti e a gente te vota picchita can usci senti che tenete senta mia la gente si ma vota perché magari se mamma vota appunto tanto culo contrario la faccia all'aria santa ignorante dico pure a greccio sar baggia presepara